La programmazione neurolinguistica può essere utilizzata anche per la versione femminile per accelerare l'orgasmo, perché le donne spesso hanno l'esigenza di accelerare l'orgasmo. Questo, diciamo, sfrutta sempre il fatto che l'orgasmo è prodotto da una sensazione cinestesica sensoriale del pene che entra dentro la vagina. E quindi per accelerare l'orgasmo bisogna intensificare questa sensazione, quindi andare sul canale cinestesico proprio oggettivo, in modo tale da amplificare le sensazioni e distaccarsi da altri canali, come ad esempio il canale visivo, che invece rendono le sensazioni più distaccate, più distanti. Come possiamo, come può una donna fare questo? Può utilizzare semplicemente il fatto che i movimenti oculari sono collegati alla percezione delle sensazioni, per cui i movimenti verso il basso portano a quell'area, dall'accesso a quell'area del nostro cervello, dove vengono stimolate maggiormente le sensazioni, sentite maggiormente le sensazioni. Per cui basta con gli occhi chiusi portare gli occhi verso il basso, cioè immaginare di guardare verso il basso. Possiamo farlo anche con gli occhi chiusi, ovviamente in questo modo avremo un accesso più diretto alle sensazioni, che saranno amplificate e quindi faciliteranno la donna nel raggiungimento dell'orgasmo, qualora questo rappresenti un tempo magari lungo rispetto a quello del partner, che magari invece ha un orgasmo più breve. In questo modo si possono sincronizzare e facilitare il piacere reciproco. Bene, per questo video è tutto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!